E devo raccontare una cosa bella. Dunque, abbiamo a Dorsino incontrato il sindaco Giorgio Libera ed è successa una cosa piuttosto carina perché davanti a un cittadino che si lamentava sempre della politica cosa che trovo spesso in questo mio camminare in questi primi 13 giorni il sindaco è intervenuto e ha detto, sì ma ognuno deve fare la propria parte per cui noi come politica ma anche voi come cittadini per cui il sindaco io la ringrazio intanto di questo intervento che è la prima volta che mi capita se vuole fare un piccolo saluto, questi qua sono alcuni amici che ci seguono sul web No, più che altro saluto, mi fa piacere che venga fatta questa iniziativa perché soprattutto ritengo che il valore aggiunto di questi comuni sia il territorio e valorizzare il territorio in tutte le sue opportunità è importante anche in funzione di un'amministrazione provinciale che prenda questi obiettivi come argomento prioritario Grazie sindaco, la notizia è che anche Dorsino fa parte dei comuni che arriveranno dalle Dolomiti fino al Garda ed è sottoposto per la biosfera Il sito della biosfera è un'iniziativa molto importante un riconoscimento appunto di questo territorio che è bellissimo e che va appunto valorizzato anche a livello internazionale Grazie